nella prima lettura di oggi tratta dagli atti degli apostoli leggiamo un particolare che aggiunge un elemento a quanto dicevo ieri su chi sia il cristiano a conclusione del brano leggiamo si sta parlando degli apostoli e dei cristiani essi dunque inviati dallo spirito santo questa frase importante inviati dallo spirito santo scesero a seleucia e qui salparono per cipro giunti a salamina cominciarono ad annunciare la parola di dio nelle sinagoghe dei giudei come dicevo ieri essere cristiano vuol dire frequentare cristo instaurare un'amicizia con lui lasciarsi condurre da lui farsi portare da lui ma anche dal suo santo spirito qui mi viene alla mente un santo un santo della chiesa ortodossa che amo molto non so se ne avete mai sentito parlare se l'avete mai sentito nominare si chiama san serafino di sarov vi invito a conoscere questa figura che davvero affascinante san serafino di sarov lo possiamo paragonare ad una sorta di san francesco della chiesa di oriente un grande maestro di spiritualità e la sua spiritualità è profondamente incentrata proprio sullo spirito santo per conoscere bene il suo pensiero per conoscere un po meglio questo santo vi consiglio un libro stupendo si intitola serafino di sarov vita colloquio con motovilov vi leggo una parte proprio di questo di questo libro proprio un estratto del dialogo tra il santo e motovilov motovilov era un cristiano in ricerca dice serafino il signore mi ha rivelato che dalla vostra infanzia avete sempre desiderato sapere quale sia il fine della vita cristiana per questo avete interrogato diverse persone alcune dei quali ricoprivano anche alte cariche ecclesiastiche ma nessuno continuò serafino vi ha mai detto niente di preciso vi consigliarono di andare in chiesa di pregare di vivere secondo i comandamenti di dio di fare del bene tale vi dissero era lo scopo della vita cristiana alcuni giunsero pure a disapprovare la vostra curiosità trovandola fuori posto e sbagliata ma essi avevano torto quanto a me miserabile serafino ora vi spiegherò in che cosa consiste realmente questo fine la preghiera il digiuno le veglie le altre attività cristiane per quanto possano parere buone non costituiscono il fine della vita cristiana ma sono il mezzo attraverso il quale si può pervenire il vero fine della vita cristiana consiste nell'acquisire lo spirito santo per quel che riguarda per quel che riguarda la preghiera il digiuno le veglie le lemosina ed ogni altro tipo di buona azione fatta in nome di cristo non sono che dei mezzi per acquisire lo spirito santo alla luce di questo possiamo dire che il cristiano è colui che cammina con gesù ma si lascia guidare dallo spirito santo sospingere diciamo così dallo spirito santo mi viene alla mente questa immagine diverse volte si narra nei vangeli di gesù che sale sulla barca con i suoi discepoli ecco il cristiano è colui che fa salire cristo sulla sua barca e lascia che il vento dello spirito santo soffi nelle sue vele buona giornata